Sono continue le segnalazioni di avvistamenti di presunti UFO nella zona archeologica Maya dei Sacrifici. Qui un tempo infatti Maya, per invocare la protezione del Dio del Sole, raffigurato sui muri del Tempio e tutti gli edifici addistanti, venivano sacrificate addirittura per sole. Addirittura i sacrificati venivano scelti dagli sconfitti del gioco della cosiddetta palla attraverso l'anello, un gioco in cui si doveva far attraversare appunto una palla all'interno di un anello. E molti testimoni parlano di aver visto sia di giorno che di notte diversi UFO che sorvolano l'intera area. Grazie. 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 Grazie.